Musica Si è insediato a Sestri Levante il nuovo consiglio comunale, rappresenterò tutti, anche chi ha votato per altri, ha detto il sindaco Ghio, Massimo Bixio riconfermato presidente dell'Assemblea. Preoccupazione dei sindacati sul passaggio di gestione dei parcheggi a pagamento a Chiavari, aperto il bando per la selezione pubblica, chieste rassicurazioni per i nuovi dipendenti APCOA. Il Papa in udienza, la fede deve partire dalla liberazione, non dai doveri. Nella terza catechesi dedicata ai comandamenti, Francesco ha sottolineato Dio prima salva e poi chiede. I migranti sono persone e non numeri. Proiettato a Sestri Levante il documentario Portami via della giornalista esperta di Medio Oriente Marta Sant'Amato Cosentino. Con la regia del villaggio del ragazzo si è svolta una a due giorni di gioco e riflessione. Fare missione a Cuba vuol dire prima di tutto mettersi in ascolto. A dirlo Don Piero Pigollo, sacerdote di Genova da due anni a Santo Domingo, in questi giorni in Liguria. Forte e positiva la collaborazione con Don Claudio Arata. Affidiamo a Maria la nostra vita, così il Vescovo apila di Sestri Levante in occasione della festa patronale. Poi l'appello di ripristinare la consuetudine di consacrare i bimbi alla Vergine nel momento del battesimo. Sport e a Lavagna le semifinali del campionato Under 20 di pallanuoto. I padroni di casa del Lavagna 90 dovranno giocarsela con Posillipo, Acqua Chiara e Brescia. Prima gara domani alle ore 18. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. La politica amministrativa in primo piano a Sestri Levante si è insediato il Consiglio Comunale eletto il 10 giugno scorso. Il sindaco Valentina Ghio ha ufficializzato le scelte per la composizione della sua maggioranza, riconfermato Maximo Bixio, presidente della Giunta. Sentiamo. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Giura sulla Costituzione e dal via al secondo mandato. Valentina Ghio, forte della vittoria al primo turno, ma spiega in aula, aperta anche a chi non ha votato o chi ha votato per altri. Presidente dell'Assemblea è stato riconfermato Massimo Bixio, il vice, e Paolo Smeraldi. Tra i gruppi di maggioranza Valentina Ghio, sindaco, da dove arrivano gli assessori Gianelli, Pinasco, Battilana ed Elisa Bixio, e i consiglieri Massimo Bixio, Silvio Rezzano, Gabriel Dell'Uomo, Daniela Mangini, Marco Piccinini, Andrea Garibotto e ancora Gabriele Ovindo e Mara Foresta, che è la capogruppo. Poi la lista Viviamo Sestri, che ha eletto Luca Ciotoli, mentre Giorgio Calabrò, critico con la Giunta per aver pescato i nomi da una sola lista, rappresenterà Sestri al centro. Nella Giunta si è rivista la Pinasco, assente nei giorni scorsi per motivi di lavoro, che impronterà il suo mandato gli assessori e i servizi sociali nell'ascolto diretto con la gente. Io sono l'unico assessore nella storia che non ha avuto l'ufficio, perché non l'ho voluto, perché secondo me bisogna stare tanto fuori e poco chiusi dentro. Poi abbiamo una Sestri, che è bellissima, quindi è anche più facile stare fuori. Ai banchi della minoranza i gruppi sono cinque, Sestri e di tutti con Giampaolo Benedetti capogruppo, Riprenditi Sestri guidata da Marco Conti, Giovanni Totti Liguria con Giancarlo Stagnaro e per il Movimento 5 Stelle Fabio Sturla. La Lega è rappresentata dal capogruppo Albino Armanino e da Paolo Smeraldi. Quale sarà la vostra posizione di opposizione a questa Giunta? Sarà di proposta, noi saremo semplicemente di proposta e vigileremo soprattutto che mantenga le promesse che ha fatto. Ci sono stati dei ripescaggi di persone che hanno già svolto questo ruolo negli anni passati, noi speriamo che lavorino bene e faremo la guardia a queste cose. Nel Consiglio Comunale di Rapallo ieri sera è stata bocciata la mozione che intendeva favorire studenti disoccupati e persone in difficoltà nella nomina Scrutatori, presentata dal Movimento 5 Stelle che oggi lamenta la decisione e il comportamento della Giunta in merito all'ordine del giorno. Andiamo a Lavagna dove il gruppo pentastellato locale invece commenta le notizie sul probabile dissesto economico delle comune, oggi commissariato. Se siamo in profondo degrado si legge in una nota dove non c'è un euro neanche per tagliare l'erba nell'aiole, così come sulle strade collinari, né tantomeno per riparare le buche e dove la tassazione e l'addizionale IRPEF sono già ai massimi, con il rischio concreto che i servizi vengano ulteriormente tagliati. I cittadini, conclude il messaggio, devono ringraziare i responsabili politici degli ultimi 30 anni. Regione Liguria non finanzierà la realizzazione del poliambulatorio di Via Annuti a Casarza Ligure, ma sarà il comune a intervenire con risorse proprie. A dirlo il capogruppo del PD Andrea Telchime, che critica la gestione dell'intera vicenda da parte dell'amministrazione. A bilancio, spiega, era già indicata la richiesta per un contributo regionale di 155 mila euro. Nel Consiglio Comunale di lunedì, prosegue, la Giunta ha presentato una variazione di bilancio per intervenire con fondi propri, preso atto del mancato finanziamento da parte della Regione. In realtà, denuncia il capogruppo del PD, dopo una richiesta di accesso agli atti, è emerso che il comune di Casarza Ligure non aveva presentato alcuna richiesta di finanziamento. A pagare dunque saranno i cittadini di Casarza Ligure, conclude pertanto Telchime, i 155 mila euro, dice, potevano essere destinati ad altri interventi di pari importanza. Cambiamo tema, in questi giorni si è aperto il bando per la selezione pubblica, volta ad assegnare la gestione dei parcheggi a pagamento, siamo a Chiavari. Filcams CGL chiede rassicurazioni e trasparenza nel passaggio. Il sindacato auspica la riassunzione dei nove dipendenti attualmente in servizio presso APCOA. Sentiamo. Che cosa chiedete innanzitutto dal punto di vista del lavoro? Innanzitutto chiediamo la garanzia del posto di lavoro per tutti coloro i quali sono assunti adesso dalla cooperativa APCOA, ma soprattutto chiediamo come Filcams CGL chiarezza e trasparenza sul passaggio che è avvenuto. Più volte è chiesto di essere convocata, non abbiamo chiarezza né su quando avverrà né di come avverrà. Abbiamo chiesto di fare un passaggio di ramo d'azienda, quindi con il 2.112 del Codice Civile, perché questo ci garantisce una maggiore economicità e soprattutto la garanzia della continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti, ci si ostina a voler fare una selezione pubblica chiamandolo un semplice colloquio, che semplice colloquio non è. Il bando è uscito venerdì e scade fra soli dieci giorni con tre giorni di festivi in mezzo, quindi con il rischio ancora di non riuscire a procurarsi tutta la documentazione per partecipare al concorso ed è comunque una selezione che intanto se è di evidenza pubblica deve garantire la partecipazione di chiunque voglia partecipare, questo è assolutamente nel mio DNA, pertanto non c'è la garanzia di un passaggio diretto dei lavoratori di adesso, c'è una selezione pubblica che secondo noi non va fatta perché la selezione pubblica la fa il pubblico impiego e Marina Chiavari è una società partecipata ma non è una società pubblica. Quanti sono i lavoratori attualmente impiegati in APCOA e che dovrebbero fare il passaggio al ramo d'azienda? I lavoratori sono nove, di cui un otto ausiliari del traffico e una impiegata e oltretutto il bando parla solo di ausiliari del traffico, quindi ci sono diverse incongruenze che noi non vediamo chiaro e vogliamo assolutamente capire cosa si intende fare. Chiedete maggiore chiarezza quindi al Comune? Chiediamo maggiore chiarezza ma soprattutto chiediamo la massima trasparenza nelle procedure. Portofino, Santa Margherita, Ligure e Rapallo unite in materia di decoro e sicurezza urbana. I tre comuni hanno firmato la stessa ordinanza con le specifiche riguardanti i relativi territori per frenare l'accattonaggio, i bivacchi improvvisati e la presenza in strada di persone alterate dall'alcol. Il provvedimento partirà non appena ogni Comune, l'avrà trasmessa alla Prefettura e sarà valida sino al 31 di agosto. Con l'incremento delle presenze in estate, spiegano i tre sindaci, Matteo Viacava, Paolo Donadoni e Carlo Bagnasco, è necessario garantire maggior sicurezza al territorio. Vietata dunque l'attività di accattonaggio e mendicità, anche se non moleste o minacciose, svolte in diversi luoghi pubblici dei tre comuni. Vietato bivaccare e sdraiarsi per terra, vietate le emissioni sonore oltre la mezzanotte e mezza. Per la cronaca, nella prima serata di ieri è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari nella stazione ferroviaria. Alcune persone che transitavano nella zona avrebbero accusato bruciore agli occhi, alla gola e difficoltà respiratorie. I pompieri, con gli strumenti in loro dotazione, hanno transennato l'area e provveduto a rilevare la presenza di eventuali sostanze tossiche nell'aria. L'esito delle rilevazioni però è stato negativo. Le persone sono state comunque accompagnate in via precauzionale al pronto soccorso di Lavagna. Sempre ieri nel pomeriggio, i carabinieri di Rapallo hanno arrestato un 52enne disoccupato a causa delle ripetute violazioni commesse nei confronti dell'ex moglie. Nonostante fossero già state prese misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare, oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, l'uomo avrebbe comunque continuato a infastidirla ed è stato quindi portato in carcere a Genova Marassi. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato due stranieri, ragazzi, il primo residente a Chiavari di 19 anni, il secondo minorenne senza fissa dimora. I giovani nel pomeriggio hanno commesso una serie di furti negli stabilimenti balneari di Santa Margherita Ligure. Sono stati fermati e trovati in possesso di 340 euro, 5 smartphone, un orologio e un ulteriore telefono rubato il giorno prima a Bogliasco. La refurtiva del valore complessivo di circa 3.500 euro è stata recuperata e restituita. Il minore è stato accompagnato presso un centro di accoglienza a Genova, l'altro ragazzo giudicato con il rito direttissimo. E ora siamo all'informazione religiosa. La fede deve partire dalla liberazione e non dai doveri. Così il Papa, questa mattina, all'udienza generale del mercoledì. Nella terza catechesi dedicata ai comandamenti, Francesco sottolinea che Dio prima salva, nel Mar Rosso, e poi chiede sul Monte Sinai. Il servizio del centro televisivo Vaticano. Il decalogo comincia con la generosità di Dio, con la liberazione e con la relazione padre e figli. Da questa deve partire il cammino di fede, non dalla legge, non da obblighi, impegni, coerenze. Lo sottolinea Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale di questa mattina. La terza, dedicata ai comandamenti, è intitolata appunto L'amore di Dio precede la legge e le dà senso. Prima il Mar Rosso, poi il Monte Sinai. Dio prima salva, poi chiede. Io devo fare questo, questo, questo. Solo dovere. Ma ti manca qualcosa? Qual è il fondamento di questo dovere? Ah, si deve fare così. No. Il fondamento di questo dovere è l'amore di Dio Padre, che primo dà, poi comanda. Porre la legge prima della relazione non aiuta il cammino di fede. Come può un giovane desiderare di essere cristiano se partiamo da obblighi, impegni, coerenze e non dalla liberazione? Ma essere cristiano è un cammino di liberazione. Parliamo di migranti, lo facciamo facendo riferimento ad un fatto avvenuto oggi che riguarda il nostro paese. Sono arrivati infatti 139 profughi dall'Etiopia attraverso i corridoi umanitari, che come sapete sono stati aperti alcuni anni fa, riguardano il Libano e appunto l'Etiopia. Tra loro leggiamo sulla prima pagina di Avvenire intere famiglie con bambini malati e disabili. Più sotto c'è una foto che riguarda l'accoglienza all'aeroporto. Si tratta di profughi sub-sahariani, 135 eritrei e 4 somali. Sono arrivati questa mattina a Fiumicino con il corridoio umanitario aperto con l'Etiopia alla fine del 2017 dalla CEI insieme al governo italiano. E a proposito di corridoi umanitari, veniamo sul nostro territorio e parliamo dell'iniziativa Tenendosi per mano, titolo dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Sesti Levante in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Per riflettere sulle persone e non sui numeri che ogni giorno si mettono in viaggio alla ricerca di un futuro, è stata invitata la giornalista Marta Santamato Cosentino. Sentiamo. Il mare è calore e dolcezza, dice Jamal, ma oggi per tanti significa morte. Jamal è il papà della famiglia, protagonista del documentario Portami via, dedicato ai corridoi umanitari e realizzato dalla giornalista 29enne esperta di Medio Oriente, Marta Santamato Cosentino. La produzione parla dei corridoi del maggio 2016 da Beirut a Fiumicino, con un'attenzione alle persone, affinché per una volta in primo piano non ci siano solo numeri, ma persone appunto, volti e storie. Portami via è il racconto di chi si salva e lo fa in maniera eccezionale. È il racconto di un privilegio in luogo di un diritto, perché di fatto ad oggi le persone che arrivano in Italia a bordo in un aereo, quindi all'interno dei corridoi umanitari, sono un numero irrisorio, ma dal potenziale politico altissimo, specie di questi tempi. Il documentario è stato proiettato alle casette rosse di Sesti Levante per coinvolgere un'area, quella della Bimare di Castiglione Chiavarese, che accoglie già 18 migranti, 10 ragazzi nella zona di Villa Ragone e 8 donne a Costa Zenoglio. Intorno a loro si è formata una speciale rete di volontariato. Vengono effettivamente non solo accolti nel senso del vitto e dell'alloggio, come solitamente viene immaginato dalla maggior parte delle persone, ma anche sull'inclusione lavorativa e linguistica. La proiezione del documentario si è svolta per la giornata mondiale del rifugiato al termine di una due giorni di riflessione. La prima domenica dedicata ad un torneo di calcio con i migranti, la seconda di dibattito, con la partecipazione di più enti coinvolti, come spiega Federica Sambuceti, coordinatrice dell'area migranti del Villaggio del Ragazzo. Il Villaggio del Ragazzo in Ati con il Sentiero d'Arianna e il Consorzio Sociale Alborà è partner nello Sprar di Sestre Levante. Numerose sono le associazioni che con noi si sono unite questa sera per festeggiare e ricordare la giornata del rifugiato. Una tra le tante, Caritas Diocesana, il Centro Giovani e l'Associazione Verità per Giulio Regeni. Rimaniamo in qualche modo in tema, parliamo di chi parte per portare il proprio aiuto in altri paesi. In Italia, ad alcune settimane, c'è Don Piero Pigollo, sacerdote di Genova, da due anni fide idonuma a Cuba nella missione interdiocesana Ligure. Un'occasione per incontrare gli amici e la chiesa genovese, ma anche per raccontare i bisogni dei cubani nella diocesi di Santa Clara. Lo abbiamo intervistato. Quali sono i progetti che state seguendo? Un progetto grosso è portare avanti i lavori di ristrutturazione della sede della Caritas parrocchiale di Santo Domingo, dove dovrebbe poi trasferirsi la mensa e anche una parte al piano superiore per l'accoglienza, sia degli ospiti italiani, ma soprattutto delle attività dei giovani o delle famiglie a livello locale. E poi c'è ovviamente il sostegno alle mense della Carita delle nostre parrocchie, il sostegno per i trasporti da noi che sono una grossa difficoltà, così come reperire fondi per i farmaci che la mancano. In tutto questo collabora con Don Claudio Arata, il giovane sacerdote di Chiavari, impegnato anche lui a Cuba, siete insieme nella missione di Santo Domingo. Come va questa collaborazione? A parte che lui è molto giovane, quindi sono avvantaggiato, ho un sostegno valido. Poi la vita comune ci permette non solo di pregare insieme al mattino, ma anche di condividere le nostre attività, ma anche eventualmente se la collaborazione diventa anche consiglio eventuale, come possiamo aiutarci. Di recente ci sono stati gli episodi alluvionali che hanno colpito anche la vostra zona, siete riusciti in qualche modo comunque a essere attivi e a dare una mano? Diciamo che il governo sta facendo la sua parte di reperire gli aiuti e noi in qualche modo per la nostra parte anche noi vediamo un attimo quali sono le necessità che magari a livello locale non si riescono a risolvere per vedere se noi possiamo essere un aiuto per quelle famiglie che sono state fortemente colpite da questa alluvione. Si avvicina ai due anni di missione a Cuba, questa esperienza l'ha cambiata in cosa? Forse di essere un po' più alla mano anche con la gente, nel senso che qui non fosse alla mano, ma un po' per lo stile loro cubano di essere molto accoglienti, affettuosi, così anche questo direi incide un po' anche sul mio carattere adesso. Torniamo sul nostro territorio, parliamo delle feste parrocchiali. La comunità di Pila a Sestri Levante ha celebrato la festa patronale di Nostra Signora delle Grazie che quest'anno ha coinciso con la solennità della nascita di Giovanni Battista. Il legame tra le due celebrazioni è stato sottolineato dal Vescovo nel corso della Messa. Sentiamo. Maria è mediatrice di Grazie, affidiamo a lei la propria vita. È l'invito formulato dal Vescovo dall'altare di Pila a Sestri Levante in occasione della festa patronale. Il Vescovo ricorda la visita di Maria alla cugina Elisabetta e sottolinea come Gesù, ancora nel grembo della madre, è presenza che santifica Giovanni Battista. Maria porta Gesù, è il suo compito di mediatrice, è strumento di grazia e anche oggi interviene affinché otteniamo i doni di Dio. Ognuno qui, dice Monsignor Tanasini, porta domande, intenzioni, porta la sua vita e la affida a Maria. Perché la consecrazione battesimale venga portata a pienezza e a compimento. Perché Maria ci ottenga la grazia di questa vita cristiana rinnovata, sempre più vivace, sempre più autentica. Questo è il grande dono che ognuno di noi può chiedere per l'intercessione di Maria. Il Vescovo lancia infine una proposta. Chiede cioè che venga ripristinata la consuetudine di consacrare i bimbi a Maria nel momento del battesimo. Non si tratta semplicemente di un bel gesto religioso, ma si tratta davvero di compiere un affidamento. Comincia questo bimbo, questa bimba, inizia il suo cammino. Maria, accompagnalo. Portalo tu, Romano. Riprendiamo questo gesto. Al termine, Don Enzo Frisino ringrazia il Vescovo per la sua presenza e sottolinea come alcuni oggetti sacri utilizzati per la celebrazione siano stati il frutto del lavoro e della generosità dei fedeli di Pila. Veste una casola che è stata fatta dal laboratorio a Ape Operosa. Il frutto del lavoro, delle settimane e della raccolta che si fanno. La comunità di Pila festeggerà il santo titolare della parrocchia, San Paolo, venerdì 29 giugno con la messa solenne delle 20 e 30 a presiederla Don Enrico Dondero. E ora veniamo invece alle feste in onore di San Pietro. Andiamo a Riva Trigoso dove ogni sera alle ore 18 c'è la messa. Venerdì, solennità del patrono, l'eucarestia sarà celebrata alle 20 e 30 da Don Siriac e Bigirimana. Seguirà la processione per le vie del borgo. Poi a San Pier di Canne, a Chiavari, domani, giornata di vigilia, alle 17 la messa per gli anziani e gli ammalati. Alle 21 sul Sagrato della Chiesa, spettacolo teatrale con la compagnia I Ruspanti. Venerdì, giorno della festa, alle 10 la messa, alle 20 e 30 i Vespri, a seguire ancora la messa vespertina, presieduta da prete Rinaldo Rocca. Quindi si svolgerà la processione. E poi andiamo a San Pietro di Novella, a Rapallo. Domani sera la messa alle 18 e 30. Alle 19 e 30 saranno aperti gli stand gastronomici e alle 21 serata danzante. Il giorno della festa, venerdì, si aprirà alle 10 e 30 con la messa celebrata dal parroco. Alle 20 e 30 l'eucarestia sarà presieduta da padre Ibrahim al-Sabag, parroco di Aleppo in Siria. La serata proseguirà alle 21 e 30 con la processione e si concluderà alle 23 con lo spettacolo pirotecnico. Ora vediamo tutti gli appuntamenti. In programma per la giornata di domani sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 28 giugno. Il cantiere di restauro dell'opera Tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto di Anton Maria Maragliano sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 13 all'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari. L'allestimento fotografico sarà curato dal liceo Luzzati per prenotazioni rivolgersi all'ufficio turistico. La conferenza L'arte del tappeto e i suoi significati si terrà al Museo Galleria Rizzi di Sestre Levante e dalle 18 sarà l'architetto Shariar Kamran a far conoscere e comprendere la vera e profonda natura dei simboli presenti sui tappeti. Vuoi savoir chi l'ha inventato o pesto? La nuova commedia della compagnia teaterale I Ruspanti sarà rappresentata sul sagrato di San Pier di Canna a Chiavari alle 21. Si esibiranno Davide Garibaldi, Sonia Bonino, Manuel Bucci e tanti altri. Sarà Giorgio Costa di inaugurare a Villa Durazza Santa Margherita Ligora alle 21.15 la diciottesima edizione dell'International Music Festival. Il pianista si esibirà sulle note di Mozart, Chopin e Schubert. L'ingresso è libero. C'è ancora un appuntamento in programma per domani. Parliamo del seminario Narrazioni, valore e funzione dei servizi per minori e giovani all'interno della comunità. È in programma domattina dalle 9 alle 13 nella sala del Banco BPM, Banco di Chiaveri della Riviera Ligure in via Dall'Orso 6. Il programma prevede vari interventi, tra questi quelli del pedagogista Andrea Marchesi sul tema Per non perdere l'appuntamento con il mondo, la mission dei servizi per adolescenti e giovani. E poi gli interventi dei coordinatori dei servizi socioeducativi, Ilaria Forcella, Monica Zazzali e Fulvio Di Sigismondo dal titolo L'educazione, declinazioni possibili. Siamo così allo sport e parliamo di pallanuoto. Iniziano domani a Lavagna le semifinali nazionali del campionato Under 20-Girone 1-Liguria. La competizione vedrà tra i protagonisti la formazione del Lavagna 90 che grazie al piazzamento raggiunto disputerà le gare in casa. Le avversarie sono squadre di società che militano in Serie A1 e dunque Posillipo, Acqua Chiara, Brescia. Una sfida avvincente alla quale i lavagnesi si stanno preparando con impegno e tenacia. Come siete arrivati a questo risultato che è già un risultato importante ma bisogna andare avanti. Il risultato è molto importante, ci siamo arrivati arrivando terzi nel campionato Ligure e qualificandoci per il Girone di Napoli in casa della Cannottieri dove abbiamo battuto 6-5 la Florenzia di due gol l'Ancona e poi all'ultima partita di nuovo di due gol il padrone di casa della Cannottieri e quindi qualificandoci primi del Girone Napoli e quindi giocheremo le semifinali in casa. Cosa ti aspetti da questa semifinale? E col fatto di giocare in casa se può essere un vantaggio? Sicuramente sarà un vantaggio giocare tra le mura amiche anche perché non abbiamo mai disputato una competizione di questo livello in casa. Spero che andrà bene, ci stiamo allenando bene, quindi incrociamo le dita e vediamo cosa succede. Ecco, quali saranno secondo te gli avversari più forti di questo Girone? Sicuramente sulla carta il Brescia ha vinto l'altro Girone, quindi dovrebbe essere la più forte ma le altre sono rinomate, quindi non possiamo sottovalutare nessuno, sicuramente incrociamo le dita, ripeto. Il Girone è molto equilibrato, le squadre stiamo parlando di squadre di serie A1 come scuole palanuoto, quindi Posillipo, Acqua Chiara, noi e il Brescia, anzi l'Acqua Chiara ha il processo purtroppo quest'anno dalla A1 e noi squadre di A2. Quindi ecco, ci affacciamo in un palcoscenico difficile dove piccoli particolari possono fare la differenza. Il livello è molto vicino, possiamo vincere e perdere con tutti. Dipenderà tanto da noi, dalla nostra voglia, fare il massimo possibile. Determinante è essere atleticamente pronti, essere pronti di testa a non mollare mai e quindi incrociamo le dita e ce la mettiamo tutta come sempre. Ancora palanuoto, nuovo arrivo in casa Prorecco, si tratta di Vincenzo Renzuto Iodice, attaccante napoletano classe 1993, ha giocato l'ultima stagione con i croati dello Juk Dubrovnik vincendo campionato Coppa di Croazia e Lega Adriatica. È cresciuto nel Posillipo con cui ha conquistato la LEN Euro Cup del 2015 ed è ormai un punto fisso del settebello italiano. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione torna domattina alle 7.30 con il Buongiorno di Telepace con Marco Revello. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.